In realtà la bellezza per Paolo Troilo è qualcosa che smette di essere soggettiva e diventa universale. In questo caso io partivo già dalla bellezza di Ducati. Partivo già dalla bellezza di questo oggetto che sia da fermo che in movimento ha tutto un suo mondo e un suo modo di avere dimensione nello spazio e nel tempo. Quello che può essere definito come statico, cioè l'arte pittorica, immaginarla in movimento vuol dire aumentarne la bellezza e sciogliere il limite dello spazio. Centauro nasce dall'idea di mitizzare una sensazione. Sentirsi oltre le proprie capacità è la sensazione più forte. Guardando la Street Fighter V4 io ho sentito questo e mi sono sentito aumentato nelle mie capacità. Ed è nato quest'uomo piegato in accelerazione e quindi fermato nel tempo ma che continua per sempre in realtà. Ed è nato quest'uomo piegato in accelerazione e quindi fermato nel tempo ma che continua per sempre in realtà. Gesù saxofizuru